Per un baritono verdiano la sfida più grande è Enrico Letto sicuramente, però il personaggio che amo di più è forse Simon Boccanegra, anche questo è un personaggio molto moderno, molto contemporaneo, pieno di sfaccettature, l'aspetto politico molto interessante. E poi tutti i personaggi verdiani sono dei padri, per cui c'è sempre questo rapporto padre-figlio, padre-figlia, che domina un po' l'opera in genere, tranne alcuni personaggi dove invece il baritono è l'amico del tenore, in questo caso è addirittura l'antagonista.